E quindi voi capite per quale motivo invece di dire sono popolari si dice sono populisti? Perché popolare è un pregio, populista è un difetto, l'ismo è sempre deteriore, no? E' per quello che l'hanno buttato giù. Poi non è che non hanno fatto degli errori, secondo me ne hanno fatti e nel libro li ho elencati, ma non li hanno mandati via per i loro errori, li hanno mandati via per i loro meriti. E hanno messo al loro posto l'esatta antitesi, che è un figlio di papà, un curriculum ambulante, uno che visto che ha fatto bene il banchiere europeo ci hanno raccontato che quindi è competente anche in materia di sanità, di giustizia, di vaccini eccetera. Mentre mi dispiace dirlo, non capisce un cazzo, né di giustizia, né di sociale, né di sanità. Mi dispiace dirlo.